aiuto cambia il rugby cambia il rugby quasi no non proprio crutch bind set benvenuti cari amici del canale Dampat Rugby vogliono cambiare le regole qualcosa è già cambiato ma parliamone allora come ben sapete tre giorni fa World Rugby ha rilasciato un documento dove ci racconta di alcuni cambiamenti ogni ogni volta ogni quadriennio post mondiale vengono ogni anno realmente viene fatto qualche aggiustamento alle regole del rugby si potrebbe discuterne per ore ma oggi il mio la mia intenzione è solamente quella di farvi conoscere i cambiamenti che vengono proposti da World Rugby che cosa si applica già da subito già da questo fine settimana quindi se siete giocatori arbitri allenatori pubblico attenzione in campana che cosa invece verrà discusso tra pochissimo e che cosa invece potrebbe cambiare molto più in là ma comunque capire un po' la direzione dove va il nostro gioco e allora per capirlo nel migliore dei modi prendiamo subito immediatamente il lo statement la dichiarazione rilasciata appunto da World Rugby lo vedete in piccolo ma vi spiego un po' di che cosa si tratta allora innanzitutto va detto che ci sono quattro fasi c'è una prima fase dove viene richiesta una più severa applicazione delle linee guida di cose già esistenti e questo si applica praticamente da questo fine settimana attenzione perché ce n'è una particolarmente importante particolarmente interessante che potrebbe andare in qualche maniera modificare già il gioco in questo fine fine stagione poi c'è una seconda fase dove si parla di un pacchetto di amendments quindi di cambiamenti delle regole che verrà discusso in nel World Rugby Council del nove maggio ma praticamente sembra quasi sicuro che tutti e tre quegli amendment proposti verranno in qualche maniera introdotti a partire dalla prossima stagione e poi c'è una terza fase dove si ragionerà ossia viene richiesto alle unions e alle competition o owners di provare a aggiungere delle modifiche al regolamento in maniera che poi vengano proposte a livello mondiale probabilmente un po più avanti infine una quarta fase molto interessante dove si dice che un gruppo di specialisti verrà creato un gruppo di specialisti per ragionare su delle altre cose che si vengono abbastanza cruciali per migliorare il nostro sport tutto questo per aumentare quella che viene definita la rugby global appeal ossia si vuole fare il nostro sport diciamo si vuole migliorare in qualche maniera il nostro sport in maniera che abbia più appeal a un pubblico sempre più vasto allora senza giudizi morali di genere proviamo ad andare a capire di che cosa si tratta poi magari un'opinione la possiamo anche dare anche dare ma numero uno quindi quello che potrebbe venire già applicato a partire da questo fine settimana anche lì questo diciamo che questa comunicazione è uscita questa settimana io immagino ma non so come funziona il processo immagino che da world rugby debba essere comunicato alle union le va ossia le federazioni le varie federazioni devono comunicarlo ai vari comitati arbitrali i quali poi devono trasmetterlo agli arbitri quindi non vi stupite se nei vostri campi magari questo fine settimana questi tre punti non li vedete applicati alla lettera ma proviamo a capire quali sono il primo e probabilmente il più importante ossia verrà richiesto ai giocatori di utilizzare il pallone più velocemente di quello che viene fatto adesso dopo una rack questo per riassumere le cose ossia sapete che cos'è una rack una rack e per semplificare anche qui perché poi ci sono delle delle differenze però diciamo che dopo un placaggio si forma un un grumo di persone si forma un aracco sia delle persone che competono per un pallone o comunque una situazione di breakdown e qui tra l'altro si parla di entrambe le cose quindi diciamo che dopo un placaggio un placaggio c'è la classica situazione dove i propri giocatori vengono a proteggere quel pallone lì gli avversari provano a forzarlo quella è un aracco comunque una situazione di breakdown c'è un giocatore definito il mediano di mischia ma non è sempre il mediano di mischia che va a tirare fuori il pallone da quella rack e normalmente normalmente avrebbe cinque secondi per farlo cinque secondi da quando da quando l'arbitro chiama lo use it che cosa succedeva succedeva che l'arbitro era un po in qualche maniera così accondiscendente con il fatto che venga messa una protezione e quindi il famoso caterpillar a volte no quindi quei giocatori uno in fila all'altra messi lì per facilitare il campo il calcio dalla base a volte dopo si stufava allora diceva use it dal momento in cui dice use it passavano altri cinque secondi a volte anche di più perché il conteggio non era un conteggio uno due tre no era un po anche quello fatto spannometrico e quindi a volte avevi delle racche che tra una roba e l'altra ti duravano dieci secondi e anche di più bene viene richiesto agli arbitri di chiamare prima lo use it e poi di essere più severi nel conteggio quindi vediamo se questa cosa verrà verrà attuata ovviamente qual è la fase del gioco che verrà messa più in crisi il calcio dalla base quando appunto vengono fatte quelle lunghe protezioni per favorire il calcio appunto del mediano di mischia senza che gli venga stoppato il pallone vediamo che cosa succede io la ritengo una cosa interessante le altre due sono più marginali ossia viene richiesto ai tallonatori di essere più marginali per per noi pubblico poi per i tallonatori probabilmente è molto importante ma viene richiesto il tallonatore di mantenere fermo il piede freno che cos'è il piede freno un anno fa era stato richiesto ai tallonatori di utilizzare uno dei due piedi per in qualche maniera ammortizzare la forza del della pressione di sedici uomini in una mischia e però cosa succedeva che i tallonatori questo piede per aiutarsi nella spinta ed eventualmente anche per prendersi il peso e quindi causare alcune alcune penalità tendevano a fare un po' quello che volevano cioè lo mettevano lo facevano vedere all'arbitro poi lo tiravano indietro invece viene richiesto che nel momento dell'engagement questo piede resta fermo e qualsiasi tipo di aggiustamento sia teso solo a trovare una migliore posizione quindi non a levare appunto questo freno a mano capiamoci della mischia infine la terza la terza è la più simpatica probabilmente quella che verrà applicata di meno a livello locale ossia il reinforcement del dei portatori d'acqua ormai da un po' di anni a livello internazionale e sapete che i coaching staff utilizzano o dei giocatori esperti o addirittura degli assistenti allenatori per portare l'acqua perché perché questi portano anche delle informazioni a volte la fanno anche fuori dal vaso come per esempio accaduto col galles questa settimana quando renal ha dovuto dire a jenkins il tuo ruolo è solo quello di portare l'acqua mentre l'altro era lì che andava a lamentarsi di un eventuale placaggio alto di varne e gli ha detto il tuo invece è quello di arbitrale bene sta cosa giustamente non piace più a world rugby quindi dice i portatori d'acqua dovranno portare solo l'acqua non possono né dare consigli tattico tecnici né ovviamente a parlare con l'arbitro lo devono fare nei nei momenti stabiliti quando c'è l'water break se non c'è l'water break e l'arbitro che deve dare il permesso ai portatori d'acqua di entrare e questa cosa verrà verrà in qualche maniera si spera gestita in maniera migliore ovviamente sta roba qui a livello locale si applica molto meno perché spesso e volentieri cioè non è che ci sono dei coaching staff di 15 persone spesso e volentieri viene richiesto ai giocatori della panchina di portare l'acqua perché insomma è così è così poi questo attenzione perché questo è molto interessante perché ripeto soprattutto il discorso dell'uscita del pallone dalla rack rigorosamente cinque secondi dopo che l'arbitro l'abbia chiamata secondo me in qualche maniera potrebbe influenzare già la fine di questo campionato per esempio i sei nazioni femminili che sei nazioni femminile che inizierà questo fine settimana poi la seconda fase quella del nove maggio quindi dal nove maggio probabilmente verranno in qualche maniera ehm messe per iscritto queste nuove tre regole che saranno applicate mi sembra di capire dalla stagione dalla stagione successiva qui non c'è scritto da quando verranno applicate però immagino nove maggio la stagione va finendo verranno applicate probabilmente a partire da settembre ossia la prima si annullerà la eh du pont low ossia quella regola l'abbiamo già spiegata volendo potete andarvi a ritrovare il ehm l'intervista che ho fatto con Brotolami ossia quella regola che permetteva in un kicking game fermandosi e non facendo né un passaggio né percorrendo cinque metri di frizzare tutti i giocatori avversari che si trovavano davanti al calciatore quindi questa cosa qui verrà annullata attenzione perché può essere interessante perché quella regola lì aveva una sua razio ossia mettere meno pressione e anche spostare in maniera diversa le pedine nei vari kicking game vedrete che sarà interessante capire come gli allenatori troveranno degli aggiustamenti se volete nel super rugby la stanno già la stanno già in qualche maniera mettendo in pratica non in qualche maniera la stanno già mettendo in pratica poi la numero due attenzione c'è un errore c'è un errore qui tutti abbiamo detto o vogliono levare la possibilità di ripetere le punizioni dopo una mischia mea culpa mea culpa ma non solo mia cioè ho letto tanti forum tante discussioni dove era detto eh come farà adesso la nostra under 20 io stesso ieri ho in qualche maniera indotto un po' nell'errore anche l'amico Antonio Raimondi raccontandogliela così realmente non è così non è così ossia sono andato a rileggermela removal of the scrum option from a free kick at scrum reducing the time quindi in mischia tu puoi avere due differenti tipi di punizione dei calci delle penalità dirette ossia delle penalità che tu puoi ovviamente calciare anche a pali quindi tutte le entrate le spinte laterali tirare giù il pilone avversario il tirare indietro per non prendere il peso eccetera eccetera e poi ci sono dei free kick per delle infrazioni che avvengono prima ossia dei calci liberi per delle infrazioni che avvengono prima dell'introduzione del pallone il più il più noto è l'early engagement ossia quando una squadra entra prima entra prima nella nella mischia bene solo in quel caso non avrai la possibilità di chiamare una mischia solo in quel caso non avrai la possibilità di richiamare una mischia se invece tiri indietro spazi via l'avversario e ti danno calcio di punizione continuerai ad avere la possibilità di richiamare una mischia tra l'altro va anche detto che le punizioni ripetute che portano un calcio libero diventano dei calci di punizione quindi insomma stiamo parlando di una di una modifica abbastanza marginale e io direi meno male meno male perché mi sembrava forse la più brutta così per come me l'era me me l'avevano spiegata così come l'avevo letta nei vari forum però poi andando un po' a fare fact checking mi sono reso conto che insomma non è così quindi annullare la possibilità di chiamare una penalità quindi di chiamare una mischia da calcio libero su mischia solo da calcio libero e poi la terza che invece è molto interessante ossia eliminare la possibilità di fare il crock roll un po' di tempo fa già era stata eliminata ed era stata in qualche maniera resa più severa l'attenzione sul crock roll ossia la pulizia coccodrillo se veniva fatta alle gambe specificatamente dopo un infortunio di un giocatore inglese tra l'altro se non ricordo male proprio su un intervento di polledri se non mi ricordo male eccetera eccetera ditemelo nei commenti forse forse era bene earl polledri su ben earl comunque insomma un infortunio importante dove entrando sulla gamba per fare la pulizia si creavano degli infortuni molto brutti era rimasta la possibilità quantomeno ad alto livello poi invece nel nel giovanile dipende da union a union di fare la pulizia coccodrillo andando a prendere sotto il petto quindi immaginatevi hai il diciamo la casetta che difende il pallone hai il giocatore avversario che arrivava prendeva sotto al petto e poi faceva come una mossa di lotta per tirare via appunto il giocatore che voleva andare a mettere le mani sul pallone bene probabilmente anche questa mossa verrà in qualche maniera eliminata e quindi l'unica maniera per pulire una rack sarà quella di andare da sotto a sopra e quindi andare a cercare di metterti con la spalla sul petto dell'avversario e spingerlo via facendo una contro rack vediamo io credo che ovviamente allora dovranno assolutamente essere molto molto severi anche nel punire ad esempio le mani a terra nella pulizia perché se no ci sono delle situazioni dove diventa letteralmente impossibile andare a portare via il fetcher no quindi sarà interessante poi ogni volta che fanno dei cambi regolamentari gli allenatori già adesso staranno studiando assolutamente come adattarsi nelle maniere lecite e meno lecite alle situazioni che stiamo descrivendo infine la terza fase la terza fase si vorrà mettere lo shot clock anche per mischie e rimesse laterali però ricordiamo che questa terza fase non sarà obbligatoria ossia le unions alle unions verrà consigliato di provare qualcuna di questi di questi suggerimenti quindi probabilmente non sarà a livello mondiale mettere lo shot clock per mischie e rimesse laterali una interessantissima che secondo me potrebbe cambiare molto il gioco ossia permettere di chiamare mark sul calcio d'inizio quindi oggi come oggi sul calcio d'inizio se calci nelle 22 non puoi chiamare mark ricevi normalmente ti fai una rack e poi provi ad uscire secondo la tua tattica dalle 22 o con un calcio o a volte ad esempio come faceva l'italia con Kieran Crowley alla mano ma ancora adesso si fa anche alla mano quindi questa cosa qui viene fatta per promoting a tagging option io onestamente non lo so cioè perché viene viene promossa la contesa probabilmente si creerà si creeranno delle situazioni alla rugby a sette con la squadra che va a calciare che direttamente andrà a cercare di riconquistarsi il pallone io ci vedo degli altri problemi ma magari ne parleremo più avanti perché per adesso per adesso appunto solamente un consiglio che potrebbe venire dato alle federazioni poi la palla deve venire giocata dopo una molle senza aspettare il secondo stop cioè quando si forma una molle oggi che cosa succede l'arbitro dice uno poi aspetta un po di tempo e chiama use it probabilmente verrà dato un po più di tempo per sistemare il drive però una volta che si vede un reale stop del della molle non verrà chiamato questo uno ma verrà chiamato direttamente lo use it quindi anche qua ovviamente cambieranno le dinamiche della molle quattro la protezione del nove oggi come oggi sappiamo che il nove ossia il mediano di mischia alla base di una mischia o di una rack o di una molle non può essere dipende oggi come oggi dipende mischia rack e molle sono situazioni diverse invece qui si parla di protezione del mediano di mischia alla base di una mischia di una rack e di una molle così come si sta provando nel major league rugby quindi fondamentalmente verrà detto bene il nove immagino in un arco di un metro e mezzo qualcosa del genere non si può toccare quindi una volta che una squadra decide di giocare alla mano non puoi andare a mettere quella pressione quella pressione sul nove anche qui ci sono delle cose interessanti perché probabilmente aumenterà la pressione sugli altri aumenterà la pressione sul dieci perché se io non mi devo più preoccupare di andare a mettere pressione sul nove vado a preoccuparmi direttamente del passo successivo e quindi metteranno magari un po' più di pressione sul dieci comunque è interessante e questo potrebbe forse in qualche maniera aumentare un po' la spettacolarità dell'uscita del pallone in alcune situazioni e poi l'ultima è particolare ossia se ne è parlato tanto anche io mi ero detto favorevole però anche qui bisogna capire un po' ossia se una squadra in una rimessa laterale non va a saltare per il pallone non va a saltare per il pallone non viene chiamata storta anche qui immagino che dovranno mettere diciamo una cornice dovranno mettere dei limiti perché allora se io immagino che l'altra squadra non salta cosa faccio posso lanciarla direttamente al mio nove cioè posso proprio non lanciarla nello schieramento o addirittura magari fare un lancio indietro direttamente ai miei ai miei compagni che sono a dieci metri non lo so non credo immagino che verranno messe comunque delle situazioni bene ragazzi spero di avervi aiutato a capire quali sono le innovazioni regolamentari per adesso dobbiamo ricordarci soprattutto il discorso del piedefreno e dell'uscita del pallone velocemente da una rack dopo il nove maggio probabilmente verranno in qualche maniera implementati anche gli altri tre punti quindi per per ricordare per ricordarlo diciamo molto velocemente non ci sarà calcio libero non ci sarà la possibilità di chiamare una mischia dopo calcio libero non ci sarà più il dupont lupol nel kicking game e non verrà più permesso il crock roll in nessuna maniera il la pulita coccodrillo diciamo la pulizia coccodrillo in nessuna maniera durante un breakdown queste sono le più interessanti per quello che riguarda l'immediato per quello che riguarda il futuro invece è interessante capire qual è la direzione che vuole prendere world rugby tra l'altro vi consiglio di andarvi a vedere comunque il l'annuncio di world rugby perché poi appunto si parla anche di quali sono le direzioni che prenderà in futuro in futuro il nostro sport ragazzi spero di esservi stato di aiuto anche per conoscere un po meglio le regole del nostro sport se avete dei dubbi scrivetelo nei commenti e cerchiamo tutti assieme di capire al meglio le cose perché conoscere le regole aiuta a giocare ovviamente ad arbitrare ad allenare ma anche a vedere capendo quello che succede in campo il nostro fantastico sport prima di chiudere fatemi ricordare solamente enervit enervit partner del canale e sapete che sotto in descrizione trovate un bellissimo codice sconto che potete sfruttare 25 per cento su enervit.com e veramente ci sono delle cose delle cose che vale la pena che vale la pena partire dalle barrette energetiche a tante ai gel insomma a veramente a tante cose che potete trovare trovare nella pagina di enervit fischio finale vi mando un grande grandissimo bacio e ci vediamo in questi giorni con i prossimi video ciao grazie a tutti grazie a tutti